siamo in finale è stata una partita non lo so dovrei andare a cercare in qualche libro di qualche filosofo greco probabilmente il termine esatto per definire per descrivere questi 120 minuti più i calci di rigore è stata una partita bella intensa e permettetemi di cominciare questo video dando una facendo un grande complimento ai nostri avversari perché veramente mai come questa sera abbiamo trovato una squadra che ci ha annullati che ha giocato meglio di noi portando avanti la sua filosofia riuscendo a farlo contro una squadra forte organizzata come la nostra riuscendo a annullare quelle che erano le nostre peculiarità e alla fine quello che va assolutamente sottolineato della partita degli azzurri è la grande tenacia la grande voglia di riuscire ad andare oltre a una partita difficilissima una partita sofferta una semifinale veramente che rende onore a questo torneo che rende onore a questo sport meraviglioso che regala emozioni incredibili l'italia raggiunge un obiettivo incredibile ecco perché pensare da dove siamo arrivati pensare il cammino fatto pensare la sofferenza che questa sera abbiamo dovuto abbiamo dovuto assaporare che sia attaccata sulle nostre maglie per 120 minuti impedendoci di fare il nostro gioco impedendoci di essere l'italia che abbiamo ammirato fino a ieri ma tirando fuori quella natura del nostro paese perché del nostro calcio perché è giusto evolversi è giusto cercare qualcosa di moderno qualcosa di nuovo ma non vanno dimenticate le radici non va dimenticata la storia che questa sera ci ha permesso di arrivare fino ai calci di rigore e poi fino alla vittoria una partita che si è subito configurata come di sofferenza per noi perché la spagna ha annullato ogni rifornimento ogni rifornimento dei nostri centrocampisti centrali che hanno dovuto aspettare più di 20 minuti per organizzarsi capire le marcature capire chi andare a prendere quando andare a prenderle abbiamo avuto tanta difficoltà a mantenere i reparti collegati abbiamo avuto tanta difficoltà a mantenere le distanze a centrocampo poi piano piano ci siamo organizzati pur soffrendo il giropalla bellissimo della spagna che per fortuna nostra è stato un giropalla molto bello fino agli ultimi 20 metri poi è vero hanno avuto delle occasioni nel corso della partita indubbiamente però abbiamo tenuto abbiamo tenuto con il sacrificio con l'intelligenza anche di mancini che ha cambiato più volte partita nella partita che è riuscito alla fine a dare per i 120 per i 30 minuti dei supplementari una configurazione che ci ha permesso di resistere è chiaro che poi nell'extra time è subentrata la stanchezza anche per loro e viva dio mi verrebbe voglia di dire visto che era la terza partita consecutiva che facevano i tempi supplementari non siamo riusciti purtroppo a sfruttare le loro difficoltà che sarebbero state quelle di prendere in velocità i loro centrali quelle di approfittare delle sovrapposizioni dei nostri esterni è chiaro che spinazzola che emerson non è spinazzola è chiaro che dalla parte destra chiesa era spesso dimenticato però piano piano con volontà siamo rimasti aggrappati alla partita siamo rimasti aggrappati al sogno di andare in finale siamo andati in vantaggio con una grande azione di contropiede con un bellissimo gol di federico chiesa troppo presto purtroppo perché mancava troppo tempo e sarebbe stato veramente sarebbe stato veramente colossale riuscire a portare a casa quell'uno a zero ma anche per una questione di merito la spagna non meritava di perdere la partita ha trovato un gol su un errore nostro perché quel buco centrale non era la prima volta che glielo lasciavamo prendere poi anche lì mancini ha corretto mettendo pessina prima mettendo locatelli poi ad andare proprio a coprire quel buco centrale che si formava e lì abbiamo riaggiustato un po' la la nostra il nostro stare in campo e poi alla fine siamo andati ai calci di rigore ai calci di rigore io ho avuto per un attimo poco prima che iniziassero la sensazione che saremmo passati noi perché c'è veramente un filo storico che ci lega a semifinali europee drammatiche mi è venuto in mente in quel momento mi è venuto in mente la semifinale del 68 quella che vincemmo con la monetina beh i calci di rigore non sono proprio un sorteggio perché lì c'è la bravura dell'attaccante di chi offende la bravura di chi difende però lì in quel momento non lo so perché mi sono configurato che l'italia si sarebbe qualificata per la finale ce l'abbiamo fatta adesso aspettiamo il nostro avversario naturalmente sapete che io un mese fa pronosticai una finale italia danimarca vedremo se domani sera effettivamente divento il nuovo mago telma o il nuovo maurizio mosca del web non lo so mi piacerebbe me lo auguro naturalmente però è un obiettivo enorme è un obiettivo enorme perché abbiamo affrontato tutti i mari della competizione abbiamo affrontato un ottavo di finale difficile scorbutico con una squadra fisica abbiamo superato il belgio grazie alla nostra qualità grazie al nostro calcio abbiamo affrontato una squadra capace di palleggiare estremamente tecnica con tante e tante soluzioni sempre dentro la partita come non aveva mai mostrato in questo campionato europeo ecco perché la vittoria di questa sera è la vittoria veramente del calcio italiano in tutti i suoi aspetti da veramente da nereo rocco fino ad arrigo sacchi e soprattutto fino a roberto mancini che è il vero artefice di questa squadra che è il vero protagonista di questo campionato europeo vedere la sua gioia vedere quella di luca vialli che esulta vedere questa italia che riesce veramente a superarsi è una cosa meravigliosa è veramente un'emozione incredibile e questa vittoria io personalmente la voglio dedicare a raffaella carrà che è stato il simbolo della della gioia dell'allegria della felicità anche della spensieratezza in un certo senso e secondo me racchiude proprio l'essenza di questa squadra nazionale il piacere di giocare a calcio anche diciamo di 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 affrontare tutto nel modo giusto di affrontare tutto con sempre col fondamento di questo sport che è appunto un gioco e quindi adesso aspettiamo domenica con con grande felicità con grande gioia è stato è stata una serata veramente di quelle che diciamo riconducono al piacere di stare a questo mondo amici miei buonanotte